Buonasera, chiedevo gentilmente l'inversione dell'ordine del giorno di discutere il punto 8, il generaggio tra il comune di Ischia e il comune di Fabri e Coppa. Facciamo una votazione, quando i suoi due non mi vediamo. Facciamo una votazione. Cioè, come di mano, mi ne ha più. No, facciamo una votazione. Votiamo l'inversione, dove va? L'inversione, no? L'inversione. Allora, l'onale di Danna. Allora, l'onale di Danna. L'onale di Danna. L'onale di Danna. Adesso dovresti dire relazione alle due, sì. No, adesso lo sei. Allora, io per il caso, che agli altri del Consiglio Comune, c'è una lettera del 13 novembre 2013 con il quale il comune di Ischia, nella persona del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco Giuseppe Ferrandini, dell'Assessore Arvato, il Dottor Giosuè Mazzella, davano la loro disponibilità al Sindaco di Torrenova, in provincia di Messina, per il generaggio. A questa lettera è allegato la coppia di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torrenova, del 2 maggio 2014. Ritengo di dover dare una risposta, quantomeno di cortesia, a questo Comune che ce l'ha chiesto un anno e mezzo fa. Ma mettiamoli in positivo. Siamo contentissimi. Siamo contentissimi di lato. Ma passiamo la votazione. E allora votiamo l'unanimità. Va bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie.